Con 4.000 docenti iscritti da tutta Italia, 90 workshop, 150 espositori, spazi dedicati a laboratori e seminari e un programma di eventi speciali nelle piazze e nei palazzi storici dedicati a famiglie e studenti, arriva a Firenze la prima edizione di Didacta Italia, la manifestazione dedicata alla scuola che si tiene in Germania da 50 anni e per la prima volta a proda nel nostro paese. Dal 27 al 29 settembre la Fortezza da Basso ospiterà il grande evento fieristico nato con l'obiettivo di favorire il dibattito sul mondo dell'istruzione rivolto a docenti, educatori e aziende del settore. La fiera più importante sul mondo dell'educazione e della scuola è una fiera che in Germania va in onda da oltre 50 anni e è la prima volta che si internazionalizza, cioè che esce, che travalica i confini della Germania, quindi ospitarla in Italia, in Toscana, a Firenze è per noi un grande onore. Ci sarà la parte più fieristica con tutte le aziende che esporranno, aziende che faranno le loro proposte che riguardano l'innovazione, la didattica a tutto tondo, ma tantissimi anche gli workshop, perché Indire appunto ha curato tutta la parte scientifica della fiera e quindi tantissimi non solo docenti ma anche amministratori, quindi è una fiera aperta a chiunque sia interessato al mondo della scuola, quindi anche a semplici, curiosi e turisti. Ampio spazio sarà dato all'innovazione della didattica ma anche alle nuove tecnologie per l'apprendimento con un seminario dedicato alle aule 3.0, un incontro con il jazzista Paolo Fresu sull'esperienza musicale nei servizi educativi e ancora tre seminari sui temi dell'alimentazione a scuola, compresa una lezione dello chef Paolo Picchi. Ricco il programma di Didacta Off che invaderà la città con musica, cineforum e seminari, da non perdere il docufilm Barbiana 65 sulla lezione di Don Milani a cui è dedicata l'intera fiera ma anche il concerto di inaugurazione a Palazzo Vecchio con l'orchestra composta da studenti Erasmus. Siamo arrivati a 150 espositori, 4.000 docenti, migliaia di visitatori già iscritti, tanti soggetti che ci hanno voluto supportare. Il sistema scuola ha delle eccellenze, il sistema scuola italiano ha delle forti, delle importanti eccellenze non solo in Toscana ma in tutta Italia e quindi Didacta si sta trasformando da subito nella fiera dell'orgoglio della scuola italiana.